Alzati in piedi. Che cos'hai in mano? Butta! Fine della corsa, Sonny Jean. Facciamo i conti. Comincia a correre. No. Non hai paura? Sono terrorizzato. Ma mio padre mi ha detto... Un avversario prima o poi va affrontato. Complimenti. Finalmente ti comporti da uomo. Le tue ultime parole? No, Alan. Jumanji. Alan. Jumanji. No, Alan, no! No! Gia! Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stato via solo cinque minuti. Mi è sembrato tanto di più. Ma non avevi detto che non mi avresti più rivolto la parola? Qualsiasi cosa abbia detto, mi dispiace. Allora, io ero arrabbiato prima. Dispiace anche a me. Mi dispiace. Senti, non devi andarci a Cliffside, se non vuoi. Ne riparliamo domani, da uomo a uomo. Magari da padre a figlio. Perfetto. Ehi, ora devo andare, sono l'ospite d'onore. Papà. Nel 19... cioè... Oggi in fabbrica. Non è stata colpa di Carl Bentley. L'ho messa io la scarpa sul nastro. Grazie per avermelo detto. Grazie. Ciao, papà. A più belli. Santo cielo, Judy e Peter! Alan! Non ci sono. È il 1969. Loro non esistono ancora. Comincio a dimenticarmi come essere grandi ormai. Non fa niente. Basta non dimenticarsi l'uno dell'altro. O di Judy e Peter. Alan, c'era una cosa che volevo fare. E voglio farla prima di sentirmi troppo bambina. probabilmente non fanno scuola guida in prima media. Buon Natale. Vuole una di queste? No, papà, no. È il nuovo crosshair. Sta andando forte. No, no, non è un reggipetto. È una scarpa. Sono arrivati. Senti, papà, devo scappare. Sì, buon Natale. Veniamo a prendervi domani all'aeroporto. Sarete il più bel regalo di Natale. Allora ciao. A presto. Sono qui. Sì, andiamo. Andiamo. Va bene. Rami. Ciao, tesoro. Ciao. Con permesso. Scusate. Ciao, Jim. Sono felice che tu ce l'abbiamo. Grazie a te. Salve. E questa è mia moglie. Piacere di conoscere. Lei è Sara. Ciao, Sara. Ma dove sono i bambini? Oh, mio Dio, eccoli lì. Come hai fatto a capirlo? Ha tirato ad indovinare, ovviamente. Sono i vostri ragazzi. Ha indovinato. Questi sono i nostri figli, Judy e Peter. Ragazzi, salutate il signore e la signora Parrish. Salve. Piacere. No, è che un po' è come se già li conoscessimo, perché, insomma... Avete parlato tanto di loro ad Alan. Sì, e io ne ho parlato a lei, che chiacchieroni. Vado a prendere i regali. Certo, tesoro, sì. Noi adoriamo i bambini. Buon Natale. Grazie. Forte. Allora, quando puoi cominciare? Beh, veramente, io e Marta stavamo pensando di andarcene a fare un giro in macchina in Canada. Dicono che sia un posto... No! Scusate. Eh, che noi, noi... Ci servirebbe quell'indagine di mercato sulla nuova linea più presto? Non c'è problema, nessun problema. Posso cominciare anche domani. Sarebbe fantastico. Beh, lascia che ti presenti tutti gli altri con cui lavorerai, d'accordo? D'accordo, grazie. Venite. Già, la nostra casa era casa vostra. Lo è, quando volete. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. Che scusese voi? Che scusese voi? Che scusese voi? Grazie a tutti.